Allora, grazie intanto di essere intervenuti così numerosi. Questo è il primo di una serie di incontri che accomunano in questa rassegna la Fondazione Faro e il Circolo dei Lettori ed è un incontro che si pone come obiettivo quello di guardare verso il limite, come scritto proprio nella sinossi dell'incontro, verso quelle domande necessarie per conoscere meglio se stessi. Non ne parlerò io, naturalmente, ma con noi ci sono Luisa Sesino, che vi prego di accogliere con un applauso. Buonasera a tutti. Filosofa, da molti anni collabora con la Fondazione Il Faro. Martino Gozzi, scrittore da poco in libreria con il Libro della Pioggia, che è edito da Bonpiani, è proprio un memoir in cui in qualche modo si fanno i conti con queste domande in seguito alla scomparsa di un amico. Devo ammettere che prepararmi a questo incontro non è stato facilissimo. Infatti mi viene un po' naturale fare un passo indietro, devo dire, perché ogni volta in cui l'argomento, non so a voi se succede, ma a me succede, è la morte, mi viene una sorta di imbarazzo. Come si fa a parlare di morte? Per cui mette in moto tutta una serie di stati d'animo e inevitabilmente siamo di fronte un po' a un tabù. Per cui mi piace partire da qua, vorrei partire da qua, anche perché in questa mia domanda poi ho riaperto il libro di Martino che avevo già letto e proprio nelle prime righe ho trovato esattamente questa problematica. Non so se vuoi leggerlo tu, lo leggo io? Lo leggo io. Allora ve le leggo, ve le leggo perché dicono moltissimo. Nella famiglia in cui sono cresciuto non si parla dei morti, ci si prende cura delle lapidi e si cambiano i fiori, ma non si parla delle persone, gli amici, i parenti che non ci sono più. Non ne parliamo per una forma di pudore, credo, per non mettere in imbarazzo gli altri, perché il valore supremo della vita sta nell'andare avanti, piangere è disdicevole, bisogna essere forti, così ognuno ricorda a modo suo, in privato. È una regola tacita che anch'io ho imparato molto presto, da bambino, senza che nessuno me l'abbia dovuta insegnare. Fa parte di un codice non scritto che chiama tutti a un comportamento decuroso e ci condanna alla nostra dose di solitudine. Io partirei proprio da qua, perché, e lo chiedo a tutte e due, naturalmente, perché è così difficile parlare di morte? Intanto, le tue parole hanno già aperto uno scenario che mi piacerebbe proporvi come spazio della riflessione questa sera. Il primo è questa reticenza a parlarne. Perché? Spiegare perché sarebbe lunghissimo. Forse bisognerebbe dedicare un incontro proprio a questo, una rassegna sul perché abbiamo così paura, forse anche perché da molto tempo abbiamo forse smesso di allenarci a pensarci mortali, cosa che peraltro ci può dare anche delle risorse inaspettate. Ma non vorrei, se mi permetti, partire da qualcosa di così grande quanto dalla tua considerazione che mi sembra pertinentissima. Abbiamo paura a farlo, però siamo qui a farlo. E questa sala senza sedie vuote mi fa dire che in noi certo che c'è la paura, anche perché il morire fa paura, ma ancor più forse o comunque anche il soffrire fa paura, il dolore fa paura. Però quello che ci piacerebbe condividere questa sera è che se si ha il coraggio di varcare questa soglia e quella soglia che si apre quando, ahimè, bisogna attraversarlo esistenzialmente, questo momento, scopriamo delle realtà inaspettate, delle gioie inaspettate e veramente molti doni. Ecco, quindi penso che questo sia importantissimo. E la seconda cosa che mi sembra importante è proprio, mi è risaltata dalle parole di Davide che hai detto adesso, la solitudine. Se non varchiamo questa porta, rimaniamo soli. Ed è un'esperienza talmente ripetuta e ogni volta dolorosa il vedere la persona che resta isolata magari proprio per un atteggiamento di protezione, di salvaguarda, non solo dopo, ma quando si è malati. Abbiamo paura di farci del male parlando e a volte il parlare è anche solo una frase, un accenno, un ho paura o hai paura. Ecco, se osiamo aprire questa che a volte è proprio una porta tagliafuoco, si apre questo spazio di condivisione, di scoperte. Ecco, quindi è un po' questo l'incipit, penso, di questo nostro momento. E una volta che si valica questa soglia, allora accadono molte cose. E devo dire, in tanti, ormai molti anni di ascolto delle persone, posso dire che ci sono dei temi che ricorrono e se li ascoltiamo vedremo che alla fine ci viene da chiederci ma perché non li pensiamo già adesso? Ecco, questo è il punto. Beh, innanzitutto buon pomeriggio anche da parte mia. Io devo fare una piccola premessa. A differenza di Luisa, non sono un esperto in materia. Mi sono accostato a questi temi spinto dalla vita, diciamo così. E ho provato ad affrontarli poi da autore, da romanziere. C'era una bella definizione che dava un filosofo tedesco che si chiamava Walter Benjamin del romanziere in un suo saggio dedicato al narratore. Diceva, il romanziere è colui che si è chiamato in disparte, non ha consiglio per sé e per gli altri e anzi proprio attraverso il romanzo esprime e attesta il profondo disorientamento del vivente. Ed è quello che credo che si trova nel mio libro, no? Un grande spaesamento di fronte alla malattia e alla morte di un caro amico. Peraltro, lavorando al libro, cercando quindi di venire a patti con questa esperienza, mi sono imbattuto in una parola che adesso mi sta a cuore ed è catastrofe, perché ho scoperto che ha un'etimologia molto particolare, rimanda al greco, e la parola catastrofe indica un capovolgimento, un ribaltamento, una cosa molto concreta, perché era ciò che compiva l'aratro quando ribaltava le zolle del campo. Ed è vero però che il campo arato è il campo che si prepara ad accogliere una nuova semina, no? Una nuova fioritura anche. E quindi lo spaesamento, questo è il mio punto di partenza, ma anche lo spazio che si apre se uno decide di stare, di varcare questa soglia a cui accennava Luisa. E vorrei leggervi altre due righe di quella prima pagina che vi ha letto prima Davide, perché non finisce lì. Molte volte avrei voluto trasgredire e varcare la linea invisibile tracciata da questa regola, eppure l'ho sempre rispettata. Almeno fino all'estate del 2018, quando mia figlia Clementina aveva poco più di tre anni e ancora non l'aveva fatta propria, non aveva fatto proprio un tabù, un divieto sociale, no? Quello di parlare di morte. Che cosa è successo al tuo amico, papà? Mi chiedeva durante i nostri spostamenti in auto. Mi racconti la storia del tuo amico, papà? Mia figlia non aveva ancora interiorizzato questo imbarazzo che tutti noi in qualche modo facciamo nostro crescendo, probabilmente, e poneva domande a se stessa e a me, rispetto alla vita, rispetto alla morte, rispetto alla malattia, domande che io stesso faticavo a pormi. Io, i miei amici, questa nostra comunità che aveva vissuto, no, questo caso. E io credo che ci sia in realtà un elemento di fiducia in questo. È naturale farsi domande. A un certo punto, probabilmente, smettiamo di farcele e ci facciamo prendere dalla quotidianità, dalla vita professionale, dagli obiettivi, dai progetti. E in parte è giusto che sia così. Ma anche tornare alle domande ha un grande valore, no? Prendo al volo questo lancio, perché intanto mi permetto di premettere che non posso proprio definirmi esperta, se non nel senso letterale della parola. Aver fatto molta esperienza ascoltando le persone malate, i loro familiari, ma anche chi le cura per tanto tempo. E credo che questo sia proprio uno dei primi inviti anche creativi che possiamo cogliere. Le domande. A parte che, come dici Davide, tutti poniamo domande. Penso che quando avevamo tre anni, tutti noi abbiamo, come la tua bimba, abbiamo magari anche esasperato i grandi con le domande. Perché sempre chiediamo, magari non diciamo ancora la R, ma diciamo è perché, è perché, è perché. E il punto è come si pone l'adulto davanti a queste domande. Un giorno un paziente mi ha detto, eh, io tutte le volte che facevo una domanda, e voi sapete che i bambini in due mosse sono nella metafisica, anche se magari state attraversando la strada tenendoli per mano, si sentiva sempre rispondere, perché due non fa tre. Ecco. Allora è chiaro che inizi a pensare che porti le domande sia qualcosa di sbagliato. oppure molte persone mi hanno detto che erano cresciute con l'idea che farsi delle domande avrebbe complicato la loro vita invece di renderla più profonda, più bella, e perché no anche semplificarla alcune volte, no? E quindi ecco, proprio come dici tu, tutto questo finisce sotto il tappeto, poi c'è molto da fare, la vita ci occupa, ci preoccupa, e ad un certo punto è chiaro che nel tempo della malattia e in vista della fine tornano, tornano tutte, o tornano molte. E ecco, credo che sia importante non farci trovare impreparati, salvo che poi abbiamo magari la fortuna di avere accanto qualcuno, anche solo gli amici che ci accompagnano. Allora credo che a tutti noi purtroppo può capitare di ricevere le domande, quelle che chiamiamo le domande difficili di una persona ammalata. e penso che se superiamo questa, che amo chiamare la sindrome di John Wayne, perché fin da quando ero bambina mi piaceva la velocità con cui John Wayne tira fuori le pistole, no? Tratatam, ha già sparato prima che gli altri si siano resi conto, no? Ecco, e a volte pensiamo che le risposte debbano essere già in noi con questa velocità. Se il bambino mi chiede ma perché si muore? Oh mamma, io non so, ma chi di noi sa rispondere? Però penso che sia importante non solo con i bambini ma anche con i grandi, anche con noi stessi, dire bene, siamo tutti umani ed è giusto che ce lo chiediamo. Perché chiedercelo anche se nessuno finora è riuscito a dare una risposta definitiva? E meno male, aggiungerei, perché vuol dire che la vita sarebbe proprio miserella, no? Se stesse in tre risposte da crocettare alla domanda giusta. Però il muoverci insieme dentro a questa domanda, a volte dire semplicemente a una persona, con quelle domande magari quasi un po' stereotipate, ma che ci escono dal profondo, ma perché proprio a me questa esperienza, no? Io non so rispondere, però posso stare accanto a te. E ce lo chiediamo insieme. E muoverci nella domanda se davvero abbiamo il coraggio di camminare apre un orizzonte. Ecco, quindi questo ce lo insegnano i bimbi, ma io credo che sia una curiosità che possiamo ritrovare. Però ecco, forse un altro, mi permetto se posso ancora specificare questo, perché quando ci muoviamo in questi ambiti è molto facile entrare in visioni, idee un po' stereotipate, un po' infeltrite, no? Dico io sapete, le signore qua in sala sanno cosa intendo per infeltrito, quando il maglioncino bello finisce nel lavaggio sbagliato, esce inservibile. E a volte anche i nostri concetti, le nostre idee restano infeltrite così, no? Per cui ecco, pensiamo che porci delle domande e interrogarci sulla vita quando la vita stringe o durante le catastrofi voglia dire certe cose. Ecco, allora pensare alla morte, ma cosa sarà? C'è un dopo? In realtà quando ci poniamo seriamente queste domande scopriamo che ci stiamo occupando della vita e di alcuni aspetti della vita che forse erano proprio finiti sotto il tappeto. Tanto per stimolare un po' la cosa, poi possiamo anche andare altrove. Se le sintetizzassimo in piccoli argomenti, mi sembra di dire, ma qui magari ci sono anche molti operatori, persino più esperti di me, che possono approfondire quello che dico, per esempio uno sguardo sulla propria vita alla ricerca di senso e spesso ci si accorge che magari ci arrovelliamo, soprattutto da giovani, ma che senso ha la vita, anzi la mia vita? E invece da questo sguardo ci accorgiamo che basta leggerlo, la nostra vita ha avuto un senso e quindi invece di arrovelarci a trovarlo, la lettura diversa dei nostri incontri, delle nostre esperienze, può veramente aprire orizzonti. Così come un altro tema che spesso ne scaturisce è il riconciliarsi. Abbiamo a volte proprio l'esigenza di ricucire dei fili strappati, delle mancanze lasciate lì indietro per mille altri motivi che hanno voglia di ritrovarsi, perché di fatto poi ecco quello che mi sembra che più risalta è ma cos'è importante veramente, no? Ecco, qui penso di poter un po' presuntuosamente, ma sempre con un sorriso, perché quando si parla di queste cose bisogna anche un pochino sorriderci, credo che si possa dire che alla fine la cosa più importante della vita sono le relazioni. La butto lì per stimolare anche magari reazioni, ecco. Però più che le cose, le persone, più che i grandi successi, i volti. Ecco, questo può essere un punto di vista interessante. Martino, sì, facciamolo, certo, certo. Lei ha introdotto due cose secondo me particolarmente interessanti, poi c'è tutta una serie naturalmente. Lei ha parlato delle domande del malato, della persona che sente approssimarsi in qualche modo la vita. Però anche ha detto che noi queste domande di fatto sono le domande dei vivi. Perché non solo chi è malato si fa queste domande. Tu hai un punto di osservazione particolare, perché rispetto all'esperienza di Luisa, che è sul malato, immagino, sulla parentela più stretta, tu invece stai un po' fuori, no, da, diciamo, dal cerchio stretto di chi ha vissuto questa esperienza, almeno nel caso del tuo libro. Io non credo che le domande siano diverse, quelle che scaturiscono in un amico. È diverso il posto, probabilmente, da cui ce le si pone, un po' meno a contatto, probabilmente. Allora ti chiederei che posto è quello lì e se hai voglia di raccontarci. Ma sì, in effetti pensavo nei giorni scorsi che non esiste una parola per definire la persona che ha perso un'amica o ha perso un amico, a proposito di relazioni, mentre ci sono termini che definiscono chi ha perso il padre o la madre, chi ha perso il marito o la moglie. Ma tutti noi viviamo, per fortuna, in una rete di relazioni che è molto più ampia di quella familiare. Ed è una rete che abbiamo scelto, no? E che ci ha nutrito negli anni. Nella mia esperienza, che racconto nel libro, penso che il mio amico Simone, che è scomparso cinque anni fa, esattamente ieri, c'è questa strana coincidenza, questo anniversario, lui era molto consapevole del percorso che stava attraversando e aveva avuto la lucidità, la chiarezza di scegliere chi voleva al suo fianco. Lui al suo fianco voleva la sua compagna, che si chiamava Stefania. E lei c'era. Allo stesso tempo, però, lui era stato molto chiaro nell'esprimere questo desiderio, cioè di passare molto tempo con gli amici, di restare in contatto. E molti di noi si sono dati, come dire, il turno, il cambio. E come accennava prima Luisa, quello spazio lì che si è aperto è stato bellissimo. Anche se non sempre facile da abitare. In molti di noi questo accompagnamento, chiamiamolo così, ha risvegliato tutta una serie di domande che sono le stesse per tutti. Luisa ha usato un'espressione che usiamo tutti ogni giorno senza pensare al reale significato che ha essere mortali. Siamo tutti comuni mortali, è quasi una frase fatta, ma ha un significato ben preciso. E cioè la vita, per come la conosciamo, per come è definita, ha un termine. E ce l'ha per tutti. Io, parlo per me, sono arrivato quasi a 40 anni, convinto, anche se razionalmente ci arrivavo, ma era una convinzione più profonda, più sedimentata, diciamo, a livello inconscio, di essere immortale, di avere davanti una vita infinita, eterna, di essere invincibile. E quindi, di avere tutto il diritto e il dovere di preoccuparmi, di occuparmi, di essere indaffarato, di lavorare, a testa bassa, quel momento lì non sarebbe mai arrivato, né per me, né per i miei coetanei, diciamo. Sì, avevo perso i nonni, i miei genitori avevano perso i loro amici, però ero stato anche molto fortunato, non avevo ancora incontrato quel momento. Fortunato o sfortunato, perché quindi non mi ero mai posto queste domande e non lo so, questa è la mia esperienza, non so quanto sia diffusa, non so quanto sia comune. Significa anche risvegliarsi più fragili, più piccoli, meno divini, no? Meno onnipotenti e accettare la propria fragilità non è semplice, non è semplice. Da genitore significa, ad esempio, sapere che tutte le strategie di protezione che adottiamo hanno un limite, no? Ma questo vale in tutte le relazioni così come vale per il nostro corpo, no? credo siano domande di senso che appunto Luisa accennava prima tra le tante cose illuminanti che ha detto ha molto senso se si è in tempo porsi prima di inciamparci, no? Perché ci si ammala o perché qualcuno che ci è caro si ammala o perché c'è un incidente. Se le facciamo nostre, se le abitiamo queste domande la cui risposta potrebbe un giorno manifestarsi ma il punto è stare nelle domande probabilmente vivremo una vita diversa, ecco. Penso questo. Eh sì, anche perché ecco forse possiamo pensare ad una piccola traduzione della domanda fatta nella forma del perché che spesso può darci anche un'impressione un po' angosciante, no? Proprio perché un perché senza una risposta immediata ma allora ecco perché magari tentiamo di eluderla. però è proprio così, è proprio come Davide ci sta dicendo così bene. Dobbiamo poterlo fare e la traduzione può essere non tanto perché per esempio esiste il limite, la nostra vita non è indefinitamente ammesso che poi se fosse indefinitamente durevole saremmo tutti disperati ma potremmo vederlo meglio questo ma chiederci dato che è così come mi posso posizionare? Come posso vedere la vita da questo punto di vista semplicemente reale? Perché il pensarci mortali sembra è quasi la palissiano affermarlo ma è stare in un dato di realtà il che significa che negarlo e la nostra cultura vedi l'incipit ma non entriamo in questo discorso più vasto lo fa in tutti i modi perché il limite ci turba il limite lo percepiamo sempre in quell'idea infeltrita solo come un muro contro cui ci scontriamo o una barriera che dobbiamo spingere più in là allora è chiaro che entriamo in un'illusione ma se partiamo dal dato di realtà molte cose iniziano a diventare interessanti la vita si fa interessante e forse ci può anche venire in aiuto perché no tutta la tradizione filosofica che ha sempre pensato al il famoso memento mori che poi grazie anche alla intramontabile battuta di Troisi è diventato un momenoscrivo no vi ricordo eppure aveva una saggezza molto grande perché non vi cito i filosofi per carità i filosofi che citano i filosofi sono insopportabili ma abbiamo tutta una tradizione che dice ma dobbiamo pensare all'essere dei mortali perché siccome questo siamo ci fa scoprire il senso della nostra vita la preziosità della nostra vita e quindi ecco siccome ad ogni illusione poi chiaramente seguirà una delusione o quantomeno quello spaesamento di cui parlavi perché non iniziare a pensare al limite come qualcosa di molto più ricco di un muro contro cui schiantarsi il limite di velocità caspita devo andare a 50 quando non c'è nessuno e andasse anche a 70 non succede niente ma questo è solo uno dei sensi del limite il limite è anche la frontiera è lì dove qualcosa di conosciuto termina e inizia uno spazio nuovo è l'inizio dei possibili e quanti possibili si aprono nel tempo della malattia proprio perché se si ha il coraggio di viverla è vita è vita a volte una vita intensamente più profonda di quella che che scorre è così quando diciamo caspita adesso sono già quasi le vacanze e dopo le vacanze tra un po' è Natale probabilmente non l'abbiamo abitata abbastanza da sentire come quando eravamo piccoli che dura il tempo il tempo abitato è lungo accadono molte cose ecco quindi lungi da me mettere la vernicetta d'oro su questi temi non voglio vederli in modo irenico per forza perché resta sempre lo spazio del tragico e il dolore assolutamente non li escludiamo però ecco uno lo cito dai Cicerone diceva delle morte dobbiamo occuparci non preoccuparci e fa una differenza enorme però occuparcene sì che significa appunto viverci da mortali e se ancora ecco spesso quando lavoriamo in questo ambito tendiamo appunto a farci un po' delle battute magari un po' grezze però si presta per sciogliere le tensioni è sempre meglio che mangiare troppo cioccolato cioè ci sono dei piccoli espedienti per poter attraversare magari anche una riunione di equip un po' impegnativa così e una di queste è guarda vi ricordate da bambini quando giocavamo alle penitenze non so se chi è più giovane ancora ha l'abitudine nel gioco adesso fai la penitenza quale? dire fare baciare lettera testamento ricordate poi si ricorda sta sulle dita ecco chiediamocelo perché è proprio questo lo spazio diciamo il bouquet di possibilità che il pensarci mortali permette ecco anche quando si è vicini a qualcuno che si sta chiedendo che sta soffrendo anche se ancora non lo si esplicita ci chiediamo il tuo amico ha parlato l'ha detto l'ha detto dire voglio i miei amici con me poi c'è il fare che a volte non riesci a far più tu e allora dici Davide che sei mio amico faresti questo per me e tutto prende una profondissima qualità densità di vita ecco ricordatevi le penitenze è un'altra espressione che questa è ad uso nostro ma ma perché no la condivido magari potrà già essere interessante in qualcosa che vivrete già domani non lo so è se a furia di ascoltare le persone vicino al limite iniziamo a pensarci mortali si aprono anche degli spazi di distensione così anche per distenderci un po' sull'argomento io lo chiamo fare il morto proprio come quando si va in spiaggia il sole è caldo l'acqua temperatura giusta e tu ti sdrai sull'acqua e ti lasci cullare lo diciamo e fare il morto ebbene fare il morto significa e questo davvero lo dico un po' scherzando ma l'ho imparato dall'esperienza di tante persone è ma devo proprio aver ragione su questa cosa ma devo proprio accapigliarmi per quest'altra ma devo proprio continuare a sopportare un lavoro che non sopporto un capo che mi vessa e quando forse potrei cambiare qualcos'altro ecco faccio degli esempi assolutamente stupidi ma penso che ognuno di noi può dirsi faccio il morto guardiamo le cose dalla fine perché come giustamente hai detto a volte anche a 94 anni ancora ci pensiamo se non immortali davanti a un tempo indefinito allora non è dire no non ho tempo e quindi con ansia dire però dire ma visto che è uno spazio limitato ci sta proprio tutto o posso dire di no a quel pranzo con i parenti ecco scusate mi permetto questi esempi assolutamente stupidi e per dire che ecco qualcosa di molto grande si può aprire ecco mi vengono in mente due cose se posso davide brevissime una è una una frase che si trova in un libricino di Chandra Candiani Livia Chandra Candiani che sicuramente conoscete è una poetessa ma ha scritto anche dei libri che si avvicinano alla saggistica diciamo così e ce n'è uno purtroppo non mi ricordo il titolo in cui ricorre continuamente questa frase questo è il momento questo è il momento proprio questo qui in cui siamo adesso in cui siamo seduti qui tutti insieme ma era il momento anche stamattina mentre ci stavamo lavando i denti sarà il momento domani mentre siete in macchina dopo domani mentre siete a una festa di compleanno questa tendenza forse è tutto occidentale tra l'altro di pensarci immortali fa sì che proiettiamo sempre tutto avanti sono mille cose che possiamo ancora fare che dobbiamo fare mille progetti da portare a termine checklist da spuntare corriamo sempre avanti rispetto al presente invece è questo davvero se ci pensate è vero è l'unico momento che abitiamo pienamente se riusciamo a starci è del momento in cui possiamo fare le cose fare e rispetto alle penitenze mi è venuto in mente è un episodio che racconto nel libro c'è stato un momento in cui io volevo scusarmi con il mio amico per una scemenza che avevo fatto vent'anni prima che però era poi colata picco dentro la nostra amicizia come una pietra nel mare e non sapevo come andarla a ripescare non sapevo come tirarla fuori e temevo che parlarne avrebbe significato pronunciare il pericolo di morte che c'era nella stanza mi dicevo ma se adesso me ne esco con questa cosa che è capitata due decenni fa rispetto alla quale voglio come dire pulirmi la coscienza secondo me lui capisce che io penso che lui e non ho nessun imbarazzo a dirvi che ne ho parlato con la psicologa che mi ha ascoltato pazientemente e poi mi ha detto ma pensi che lui non ci pensi tutti i giorni al pericolo di morte al fatto che si sta avvicinando al fatto che ha una malattia terminale e allora ho raccolto il coraggio e sono andato a chiedergli scusa e essere fragili significa anche questo è stato in realtà è stato un momento molto bello difficile ne avevo paura ma ci ha poi permesso di parlarne no? scusate Davide hai perfettamente scusa stavo guardando Davide temo di averti chiamato Davide fino adesso siamo molto simili abbiamo tutti e due la barba bianca me l'ha detto scusami scusami hai perfettamente descritto la porta che si apre è vero che certe circostanze ci incitano a fare quel passo proprio perché diciamo se il tempo stringe non posso sopportare di non aver fatto quel gesto ma se ci pensiamo bene hai evidenziato la forza della fragilità la forza dell'essere piccoli abbastanza quanto lo sono gli umani e che paradossalmente attraverso questa piccolezza rivelano riveliamo la nostra grandezza e passare il tempo a nasconderla o a nasconderci dietro a presunte capacità forze ci esclude quindi guarda grazie perché il tuo esempio è stato perfettamente illuminante di quello che diciamo e di nuovo ecco se torniamo alle cinque dita appunto perché attendere certo significa fermarsi o forse smettere di correre perché poi semplicemente recuperiamo quel presente di adesso è il momento il momento è qua ma io chissà dove sono sono sempre tre passi indietro quattro passi avanti e scegliere anche quello che tu racconti è un risveglio fortissimo della libertà che abbiamo di non subire anche i nostri sentimenti i nostri vissuti ma di dire è importante questo vale di più e allora andrò chiederò scusa o spiegherò o chi lo sa o mi esporrò a un non farti mai più vedere penso che non fosse il caso ma tutte quelle cose che temiamo quando ecco dire poi diventa fare però diventa anche baciare perché è entrare in quella dimensione di affettività che veramente possiamo abitare solo quando ci riconosciamo fragili e tra fragili e mi permetto di citare una nostra collega in faro che un giorno mi ha detto guarda quando proprio si stava ragionando sul limite e quando proprio il limite è lì magari sto in fondo al letto del paziente e mi sento anzi sento che siamo due uccellini sullo stesso ramo a me questa immagine ha colpito tantissimo tanto che in un'aula dove facevo pratica filosofica ho messo una stoffa con degli uccellini colorati su dei rami perché è proprio così tante volte ci dibattiamo quando possiamo dire bene sono un uccellino magari un po' in plume bagnato su quel ramo ma ci sei anche tu cosa può accadere no? ecco è un disarmarsi e forse non è un caso che ecco spesso anche nella letteratura filosofica anche nella tradizione sapienziale abbiamo diverse testimonianze dell'importanza che ad una persona per esempio venga dato un ruolo di responsabilità o di accompagnamento di educazione di qualcuno se a condizione che abbia attraversato delle catastrofi proprio letteralmente sic catastrofe quando qualcosa o crolla o aver passato in fondo posso dirlo sono delle piccole morti come diceva Madlène Delbrel che è un'autrice che amo moltissimo si impara la morte ma perché fa parte della vita ed è importante se non fossimo morti ai nostri giochi di bambino caspita a volte qualcuno anche in tarda età cioè rimane attaccato ma ci sono semplicemente delle cose che passano perché altre più importanti arrivano hanno bisogno di spazio ecco quindi credo che ci possa aiutare già oggi perché ogni istante che viviamo è vita è sempre vita ne avrei ancora moltissime ma giustamente ci stiamo prendendo i tempi giusti per affrontare le cose per cui forse qualcuno la tagliamo Martino questa cosa qua anche è nata questa non so se è il frutto di questa esperienza non so se è uno step di questa esperienza non so se è stato terapeutico non so cos'è stato ma certamente qualcosa è stato questo lavoro che hai fatto lì ci racconti un po' come ti sei approcciato come hai lavorato hai detto ho sentito dire era una sorta di appuntamento quotidiano con qualcuno che se ne stava andando o che se ne era già andato sì beh c'erano due stimoli dentro di me il primo che poi si ritrova nella prima pagina è il fatto che per mesi dopo la morte del mio amico io sentivo un grande bisogno di parlare di lui di ricordarlo di condividere momenti ricordi di tenerlo in vita e appunto percepivo attorno a me un imbarazzo hai usato la parola giusta a parte Clementina i nostri amici la nostra comunità anche chi gli era stato molto vicino preferiva sottrarsi io non volevo non volevo come dire non volevo invadere uno spazio però allo stesso tempo sentivo il mio bisogno e poi mi è tornata in mente questa cosa che periodicamente affiorava e c'è una strana coincidenza nell'inverno dell'anno prima avevo ricevuto tramite la scuola Olden una richiesta particolare per pura coincidenza dall'ospedale di Sant'Orso la Bologna la richiesta era quella di tenere un laboratorio di scrittura per un gruppo di pazienti del reparto di onco-ematologia il caso voleva che quello fosse il reparto dove anche il mio amico era stato in cura per tanto tempo anche se in quel momento non era non era ricoverato ma era a casa io ho capito subito che era una sorta di chiamata del destino o quantomeno l'ho voluta leggere così e di nuovo ho dovuto vincere tutte le mie paure perché perché mi chiedevo ma che cosa posso davvero insegnare io a questi ragazzi perché erano tutti giovani tra i 20 e i 30 anni ragazzi e ragazze quando di catastrofi non ne ho ancora attraversate il lavoro è vero in una scuola dove si insegna a raccontare storie ma lo si fa partendo da un altro punto di vista cioè con l'obiettivo diciamo l'ambizione il sogno il desiderio di smuovere qualcosa in chi legge no trasferire energia attraverso le storie e quindi emozionare provocare divertire suscitare domande ma nel lettore mentre invece la psicologa anche lì che mi aveva contattato perché partiva dal presupposto a cui sei arrivata adesso tu Luisa cioè che è sempre vita fino all'ultimo istante siamo in vita ed è giusto fare tutto dire baciare amare vivere intensamente no e non essere ridotti solo allo stato di pazienti di malati e in effetti questi giovani avevano una grande voglia di sperimentare e oltre alla scrittura facevano un corso di yoga dipingevano vivevano la loro vita come come era giusto che fosse la psicologa che mi aveva contattato partiva appunto da questo assunto cioè che la scrittura abbia un potere terapeutico e io che bene o male di libri mi ero occupato per tutta la mia vita adulta in realtà non avevo una risposta o una posizione chiara rispetto a questo cioè non sapevo se la scrittura poteva essere terapeutica ed è da allora che me lo chiedo non so se terapeutico sia l'aggettivo giusto e non so se la scrittura possa valere per tutti ecco penso che ognuno di noi debba trovare la propria via la propria strada la propria pratica e appunto può essere la meditazione può essere lo yoga può essere il giardinaggio può essere la pittura ma credo davvero che ognuno di noi debba ascoltarsi di sicuro adesso sono arrivato a questo punto di arrivo provvisorio oggi sono convinto che la scrittura come queste altre pratiche per sua natura proprio perché richiede una solitudine richiede un tempo di stratificazione richiede un minimo di disciplina e ci porta a tradurre in parole tutto ciò che si agita dentro di noi sotto la superficie e a poco a poco a tirarlo fuori letteralmente dall'interiorità improvvisamente tutto questo si ritrova scritto in termini quasi no oggettivi fuori da noi possiamo vederlo possiamo rileggerlo possiamo leggere la voce alta possiamo prendere un minimo di distanza possiamo scoppiare a piangere mentre leggiamo proprio per tutto questo la scrittura ci consente di aprire uno spazio che è uno spazio di cura che ci concediamo che concediamo a noi stessi di cura nel senso che ci prendiamo cura di ciò che si muove dentro di noi e che è così maledettamente difficile raccontare tra gli altri di persona nella relazione raccontare e tramandare di bocca in bocca per mille ragioni la scrittura ci permette di aprire un canale questo si che è un dialogo per lo più con noi stessi ma molto spesso anche con altri quando scriviamo c'è sempre un destinatario come scrivere lettere le lettere si infilano dentro le buste e le buste hanno un destinatario un francobollo una francatura e sì per me scrivere a un certo punto è diventato davvero un appuntamento magico con me stesso in cui finalmente mi ritrovavo ed era quello il momento in cui mi sentivo maggiormente me stesso nel senso che ero lì ero davvero lì in quel momento ero presente e e avevo la possibilità se non altro di fare il tentativo di trovare un senso no cioè di rileggere gli avvenimenti il passato il vissuto la catastrofe e chiedermi che senso ha avuto tutto questo no dov'era il senso qui mi sento fortunato per questo adesso sto leggendo in questi giorni il che ho comprato nella tua libreria a interesse e ti ringrazio per avermelo tenuto da parte l'ultimo libro di Martin Emis che è appena scomparso per per un caso editoriale il libro è uscito postumo ma perché lui è appena morto da un paio di giorni e lui proprio nelle primissime pagine dice come si fa a rispondere alla domanda di chi dice perché scrivi a me viene da chiedere come fai a non scrivere come fai a trovare un senso alle cose se non scrivendo questo credo valga per alcuni di noi non per tutti di sicuro ci sono altri che hanno altre strategie altre pratiche credo la chiave sia trovare la propria e la pratica certo assolutamente a proposito di incontri casuali che a volte insomma accadono come appunto questa chiamata a tenere un laboratorio di scrittura io prima ho orecchiato mentre che raccontavi come un po' anche per te sia stato un caso l'inizio di questo di questo lavoro sì è vero sinceramente non l'avrei mai scelto anzi non sapevo neanche in fondo pochissimo di questo ambito ma ormai quasi 20 anni fa un amico molto caro che aveva fondato un'associazione di cure palliative domiciliari sul territorio dove vivo un giorno mi dice io seguivo un pochino l'equip proprio sulle grandi tematiche ecco perché magari a partire dai casi emergono temi molto grossi che si ha voglia di condividere e un mattino invece questo amico infermiere arriva e mi dice senti Luisa c'è uno dei nostri pazienti che dice che ha bisogno di pensare e io gli ho detto senta se vuole adesso perché adesso è l'attimo è il momento ci sono io però se ha piacere di pensare con un po' più di ordine io posso chiedere alla filosofa della nostra equip se vuole venirla a trovare vuoi andare e che vuoi dire no sono andata ho incontrato questo signore che aveva proprio bisogno di mettere ordine nei suoi pensieri e da lì nella sua vita e ricordo rispetto al dire fare baciare che mi avevo detto insomma era uscito nel nostro dialogo molto semplicemente lui mi parlava di una moglie amatissima e si è accorto che non le diceva che l'amava da non si ricordava più quanto tempo ecco per dire a volte sono piccoli passi no e insieme a qualcun altro li puoi fare ecco non sarà forse filosofia teoretica nella sua versione più però ma da quanto tempo non gli ho ma non mi ricordo ma lei lo sa però forse lo si può dire ecco devo dire che la volta successiva che ho visitato il signor Giorgio si è capito che l'aveva detto e da lì si è aperto di nuovo un mondo ecco questo proprio per dire che mi ci sono trovata e semplicemente ho acconsentito e questo è stato poi un cammino molto lungo e decisamente preziosissimo ecco senti prima di salutarci tu hai detto che ti sarebbe piaciuto fare un po' da portavoce delle persone che hai incontrato in questi anni e so che hai portato un piccolo pizzino sì possiamo chiudere così secondo te sì mi sembra molto bello perché questo signore che si chiama Angelo è stata la seconda persona che ho incontrato poverino non sapeva sì lo sapeva un po' che era una cavia ma nell'accompagnamento filosofico però con lui ho potuto avere un lungo percorso la vita ci ha concesso questo tempo insieme e lui mi aveva detto ma adesso so che vai in giro a fare degli incontri delle lezioni perché non lo dici che è proprio importante fare quello che stiamo facendo insieme ecco va bene lo dico perché perché sto entrando nel grande mistero della vita mi ha detto e tra l'altro ci sarebbe molto da dire non mi voglio dilungare per non far tardi ma la categoria del misterion è poi quell'orizzonte ultimo in cui ci muoviamo quando ci occupiamo del limite della fine ma in fondo è quello spazio non il mistero come lo intende Sherlock Holmes cioè qualche cosa che ancora non so ma che con la mia acuta ragione scoprirò ecco e risolverò siamo anche tutti un po' Sherlock Holmes oltre che John Wayne ma è quello spazio ecco che appunto misterion dice tutto ciò che ci precede ci eccede ci trascende e se stiamo ben guardare tutto è così e forse non ultimo in primis proprio l'amore d'amicizia la filia che tu racconti nel tuo libro ecco allora Angelo mi chiede questo allora aspetta io scrivo quello che tu dici questo signore aveva sui 75 anni aveva fatto l'operaio tutta la vita molto impegnato a livello sociale era stato sempre nel sindacato insomma a grande amante delle bocce e io ho scritto quello che Angelo ha detto ecco questo proprio per dire che quello che abbiamo detto forse così un po' balbettato perché si sta sempre un po' in punta dei piedi su questi argomenti però appunto è essere portavoce e dare il volto a tanti volti che ci hanno insegnato tutto questo non è alta letteratura però riassume tutto quello che abbiamo detto ed è profondissimo sono contenta di dargli voce ancora dopo vent'anni quando sei alla fine della vita ti interessa capire ciò che è più grande di te e qual è la tua parte in questo ti interessa il senso ho un grande bisogno di verità che gli altri che ho vicino non possono soddisfare li capisco anch'io preferivo bere un bel bicchiere che piuttosto che pensare a certe cose invece ora capisco che bisognerebbe pensarle per tutta la vita bisogna crescerci assieme imparare a farlo da vecchi e malati quando resta poco tempo è più difficile ma sbagliavo credendo che fosse tardi basta iniziare a farlo però hai bisogno di qualcuno che stia con te senza paura siamo tutti umani e toccare la profondità delle cose rallegra il cuore ci siamo entrati in punta di piedi come abbiamo detto ma poi ci siamo stati bene credo ci siamo chiesti che cosa volevamo che rimanesse al pubblico di questo incontro e ci siamo detti che sarebbe stato bello se fosse rimasta un po' la possibilità di guardare in una direzione ecco no e in un certo senso e li ringrazio tantissimo per questo e vi chiedo un altro applauso per Luisa Sesino e Martino Gozzi per averci aiutato a guardare in quella direzione grazie a tutti voi e buona serata grazie arrivederci grazie di cuore